Questa notte, mentre la terra tremava, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano in Campania hanno arrestato F.I. 52N, già noto alle false dell'ordine, ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 maggio dalla procura generale di Napoli al quale si era sottratto. I carabinieri si sono messi sulle tracce dell'uomo avviando delle indagini sia via web che tradizionali. Grazie a web patrolling però i militari hanno monitorato ed analizzato le abitudini dell'uomo individuando il nascondiglio. Il 52N si trovava in una villetta a via Ripuaglia nella frazione di Parcaturo in compagnia di un parente. Sul lato posteriore dell'abitazione era stata predisposta una scala di fortuna per scavalcare il muro da utilizzare come via di fuga. L'arrestato è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare la pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per l'associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio. la scuola a a a a a a Grazie a tutti.